famiglia da quanto tempo non ci vediamo su youtube signori ho un'importante notizia per tutti voi innanzitutto un grande progetto ragazzi pieno di cose pazzesche sponsor in arrivo collaborazioni in arrivo siete pronti? riccardo rosalottino basso insieme con voi su twitch come ogni sera dalle ore 8 ma anche con live special che annuncerò sul mio profilo instagram trattino basso lo stavo linkando trattino basso e su tutti gli altri social quindi gruppo telegram gruppo discord già siamo in tantissimi di questo vi ringrazio un viaggio insieme per tutto il mondo in tutto il mondo low cost ragazzi in completa economia ospitato ovunque in giro per il mondo ovunque in qualsiasi posto insieme live mi chiederete qualsiasi cosa io lo farò per la famiglia pegni scommesse viaggeremo nei posti più belli vi porterò ovunque mangeremo insieme faremo le notti insieme dormiremo insieme ovunque conosceremo soprattutto tantissima bella gente ragazze soprattutto che a voi non dispiace insomma ragazzi un progetto pazzesco lo annuncio qui e vi dirò che c'è importante anche un progetto per youtube perché come questo che al primo video ci saranno tanti altri video contenuti premium solo per youtube ma principalmente saremo in live sul canale qui riccardo rosario trattino basso vi aspetto vi voglio un gran bene e famiglia per sempre